ciao a tutti io sono il dylan dogofilo visto che stiamo parlando di dog quindi di cane ringrazio il cane del vicino che abbaglia sempre ad ogni ripresa video quindi se sentite bau bau in sottofondo sappiate che non è colpa mia oggi recensione dell'album numero 300 ritratto di famiglia dopo la recensione dell'album numero 100 la storia di dylan dog e la recensione dell'album numero 200 poteva forse mancare per concludere il trio di assurdità l'album numero 300 certo che no recensiamo le andiamo ad analizzarlo in questo video oserei definirlo un albo astratto ma alla fine un senso ce l'ha testi di pasquale ruio e disegni di angelo stanno così come di stanno la copertina pasquale ruio che compie davvero un ottimo lavoro inizialmente per confondere l'idea al lettore e buttare su carta una cozzaia di idee una una cozzaia di pensieri e opere del mondo dell'indagatore dell'incubo tutto in uno angelo stanno che compie miracoli grazie alla computer grafica quindi dei colori davvero stesi alla perfezione ombreggiature perfette mi sembra quasi di vedere un color fest ecco come come leggere il color fest davvero angelo stanno che ha migliorato la sua tecnica nel corso degli anni adesso è davvero un ottimo disegnatore meno male che è andato avanti in meglio a partire dal primo albo adesso è arrivato a più di 300 albi comunque questo qui è il 300 e disegna davvero bene non come altri artisti che hanno peggiorato la loro tecnica nel corso degli anni chi mi segue sa chi intendo parliamo della storia invece appunto di che cosa parla inizialmente appunto si ricrea un po un subbuio perché sibyl che è la ragazza di dilandorg nell'album numero uno in questo caso uno zombie ma in realtà un incubo ma in realtà non era un incubo ma in realtà opera di angelo stanno che poi ci ripensa e cancella tutto angelo stanno che si immette in questa storia e si immagina in un mondo popolato da zombie con lui unico superstite dotato di intelligenza che tenta di ricreare una storia fantastica di dilandorg fantastica nel senso proprio c'è voluta molta molta fantasia per rappresentare un'idea impossibile andando avanti appunto si ripercorre quello che è stato il dilandorg del 1600 quindi con suo padre e morgana sua mamma che paradossalmente sua mamma diventerà la sua fidanzata nell'album numero 25 morgana davvero un mondo confusissimo quello di dilandorg chi riesce ad interpretarlo e a dir poco un genio bellissima questa transizione dai cavalli alle macchine scoppia le macchine moderne a oggi quindi cram road 7 nel corso del tempo e qui ci ritroviamo quasi a casa perché troviamo dilandorg con una sua fidanzata quindi sembrerebbe che la storia sia tornata alla normalità e invece non è così è sempre un rincorrersi di idee davvero particolari e davvero toccanti infatti qui troviamo la tomba di morgana dilandorg che una mattina si sveglia e decide di andare ad undead a trovare morgana vengono fuori tutti gli zombie un richiamo al numero uno ma anche un richiamo al numero 25 perché c'è morgana però morgana è vestita in modo diverso diventano zombie davvero un disastro in realtà era un sogno in realtà stano l'ha disegnato ma dopo ci ripensa perché stano in questa storia ha fatto i disegni però nel contesto del racconto si immedesima anche nello scrittore quindi angelo stano che nel fumetto fa sia da scrittore sia sceneggiatore e disegnatore ma che nella vita reale è ruio ha scritto questa storia e stano la disegna qui appunto arrivano fuori ancora gli zombie qual è il senso di tutto questo è questa storia il appunto il numero 300 ritratto di famiglia si va a congiungere bellissimo questo zombie qua con gli occhi che sconfori davvero non ho mai visto uno zombie rappresentato così bene in dilandorg questo numero si va a congiungere con l'inizio del numero 100 quindi una specie di prologo un prologo molto molto ampliato di quello che è il numero 100 infatti qui come vediamo dylan sta per dire a graucio che sta per finire il galeone e qui so solo che se lo faccio se lo faccio sarà la fine infatti qui inizia il numero 100 come sapete il numero 100 appunto inizia con dylan che attacca l'ultimo pezzo del galeone e scatena la fine una corsa ai ricordi una corsa nel mondo di dylan che non c'è nell'albo regolare quindi la storia di dylan del 1600 il dylan dog bambino interviene anche la vita la vita la morte le due sorelle che ogni tanto si incontrano si sono incontrate anche nella storia il calvario bellissima recensione vi consiglio di andarla a vederla sempre qui sul mio canale dove appunto si ritrovavano in un'altra occasione quella lì era una storia davvero significativa qui invece si la vita e la morte si incontrano solo per scambiare quattro chiacchiere nient'altro quindi un appunto concludo col dire come già riferito prima un un prologo molto lungo che si collega al numero 100 una storia da perdere se vi confondete facilmente le idee una storia imperdibile per i veri amanti di dylan dog che vogliono dylan dog così confuso e astratto e impossibile com'è noi ci vediamo alla prossima recensione dedicata al mondo del narratore dell'incubo se il video ti è piaciuto condividilo e iscriviti al canale così ogni volta che faccio un video ti arriva alla notifica ciao